Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Sempre sielo dato. La storia sacra, quarto episodio. Abramo, il padre del popolo ebreo, Esau e Giacobbe. Abramo, il padre del popolo ebreo. Nonostante il castigo del diluvio, i discendenti di Noè divennero nuovamente cattivi. Dimenticarono a poco poco il vero Dio e adorarono false divinità. Allora il Signore scelse nella caldea un uomo dal cuore retto di nome Abramo. Dio promise ad Abramo che l'avrebbe fatto capo di un grande popolo e che dalla sua discendenza sarebbe nato il Messia. Quel popolo eletto da Dio fu il popolo ebreo. Abramo fu un uomo di grande fede. Per provare la sua virtù, il Dio gli ordinò un giorno di prendere il suo diletto figlio Isacco e offrirglielo in olocausto sul monte Moria. Non avendo altri figli, su quel fanciullo erano concentrate tutte le speranze del vecchio patriarca. Nonostante ciò, egli ubbidì prontamente. Prese l'occorrente per il sacrificio e si mise in viaggio. Strada facendo, Isacco domandò Padre mio, ecco la legna e il fuoco, ma la vittima dov'è? Il Dio la provvederà, figlio mio, rispose il padre. Isacco non sapeva che la vittima doveva essere lui stesso. Giunto sul posto, Abramo eresse un altare, vi accomodò la legna e sopra di questa il figlio. Già stava per vibrare il colpo, quando un angelo gridò Abramo, Abramo, non uccidere il fanciullo, poiché ho conosciuto che temi Dio. Visto un montone impigliato tra le spine, Abramo l'offrì al Signore al posto del figlio. Il Dio gradì l'olocausto e giurò al patriarca che dalla sua discendenza sarebbe nato il Messia. Dio premia sempre l'obbedienza pronta e generosa. Esau e Giacobbe Isacco ebbe due gemelli Esau e Giacobbe Esau era appassionato per la cazza Giacobbe invece era pastore Essendo nato prima Esau aveva diritto alla benedizione E alla eredità del padre Ma avvenne che un giorno Esau, tornato stanco dalla campagna Chiese al fratello la minestra di lenticchie Che questi aveva preparato per sé Giacobbe Giacobbe gli disse Te la do se mi cedi il diritto di primogenitura Esau affamato rispose Che ne faccio della primogenitura E giurò di dargliela Isacco intanto era diventato cieco e vecchio Non sapendo nulla di quel contratto Chiamò Esau e gli disse di portargli un piatto di buona selvaggina Volendo benedirlo prima di morire Ma la madre che sapeva tutto Cucinò una gustosa pietanza E preparò Giacobbe A ricevere la benedizione del padre Destinata al fratello Quando Esau Tornato dalla cazza Seppe che Giacobbe Gli aveva rapito le benedizioni paterne Gettò un grido spaventoso E tentò di ucciderlo Giacobbe allora fuggì presso uno zio Durante il viaggio S'addormentò in aperta campagna In sogno vide Una lunga scala La cui cima toccava il cielo Gli angeli scendevano e salivano per essa Dall'alto della scala Dio gli disse Io sono il Signore Dio d'Abramo ed Isacco A te e alla tua stirpe darò la terra in cui riposi E nella tua discendenza saranno benedette tutte le genti In un'altra visione Dio cambiò il nome a Giacobbe Lo chiamò Israele Perché buono e virtuoso Giacobbe fu prescelto da Dio Quale antenato del futuro Messia Sia lodato Gesù Cristo Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen